Un dibattito con tutti e sette i candidati alle prossime amministrative, candidati sindaco, organizzato dal secolo XIX, un dibattito che prevedeva su temi fondamentali come la vulvigità, la movida, il turismo e altri temi una risposta da un minuto e mezzo, quindi risposte molto brevi, non ci sono stati particolari urti tra un candidato e l'altro, soprattutto tra Bucci, candidato uscente, che ha partecipato a questo dibattito insieme al candidato, il maggiore sfidante, uno sfidante più accreditato ad area dell'astrologo, quindi dibattito molto liscio che ha contraddistinto tutta una serie di risposte che è durato intorno all'ora e mezza. Si va avanti con la campagna elettorale, quindi che finisce tra una settimana, noi cercheremo di proporvi con questo dibattito delle pillole di alcuni interventi che ci sono sembrati tra i più significativi nel corso della settimana.